Nidi artificiali nei comuni di Gravina in Puglia e Altamura installati sui tetti delle abitazioni dei cittadini per favorire la nidificazione del falco grillaio. Le tante adesioni della gente sono state eseguite dai sopralluoghi degli ornitologi e i primi 200 nidi già posizionati consentiranno ai giovani falchetti di mettere su famiglia in tranquillità e sicurezza. Tra gli edifici selezionati anche quelli pubblici che per caratteristiche architettoniche e posizione rappresentano dei luoghi simbolo. Tra questi le case municipali di Gravina e Altamura su cui i tetti sono stati posizionati i nidi su indicazione degli assessori all'ambiente dei rispettivi comuni il gravinese Cristian Di Vella e l'altamurano Domenico Cappiello. Un gesto significativo ha detto Di Vella che indica la ferma volontà delle due amministrazioni comunali di tutelare la specie con azioni concrete di conservazione e sensibilizzazione. Volontà confermata anche da Cappiello. Ogni cittadino ha detto l'assessore all'ambiente di Altamura aderendo all'iniziativa viene reso consapevole di quanto sia importante la propria abitazione per la nidificazione del falco soprattutto se nell'ambito del centro storico. E mentre i due assessori concordano sulla necessità di salvaguardare il grillaio non solo per la sua importanza biologica ma pure perché motivo di attrazione turistica per l'intero territorio murgiano Alessio Valente primo cittadino di Gravina comune capofila ha evidenziato l'opportunità lungo la strada della salvaguardia dell'habitat naturale e dell'ecosistema e la loro coniugazione con il turismo e la crescita economica punticardine di uno sviluppo che per essere finalmente reale e sostenibile passa attraverso un indispensabile cambio di mentalità. Sarà possibile aderire alla campagna Un Falco per Amico per tutta la durata del progetto fino al conseguimento degli obiettivi previsti compilando e consegnando al protocollo del comune di residenza il modulo di adessione scaricabile dal sito del progetto www.unfalcoperamico.it cliccando sul banner adotta un grillaio. Il progetto è finanziato con lo strumento LIFE della Comunità Europea e promosso e cofinanziato oltre che dai comuni di Gravina e Altamura anche da Regione Puglia, provincia di Bari e Parco Nazionale dell'Altamurgia.